Buongiorno a tutti, conferenza stampa di presentazione di mister Stefano Sottini, c'è l'avvocato amministratore pubblico, direttore generale Vincenzo Toro, il direttore sportivo Raffaele Rubino e il mister ovviamente Stefano Sottini. Conferenza come vi dicevo prima divisa in due parti, faremo presentazione del mister pre-gara, poi dopo se lo tenremo il mister eventualmente avete domande per il direttore sportivo e per l'avvocato. Ok? Cominciamo con una domanda a testa, Maria Volo, non vi vicino. Ben ritrovato mister, diverse volte ci siamo incontrati con la Juve Stabbia, mi ricordo la prima con Carpi, poi con il Varese, con l'ultimo con la Vitebese, ha accettato questo incarico a Castellammare con la Juve Stabbia, nel calcio come anche prima mi trovo in spirito, l'avvocato con il direttore Toro, nel calcio bisogna sempre sentire andare avanti, sia nel bene che nel male. Per chi ha accettato, che cosa ha compito ad accettare il progetto di Juve Stabbia e cosa pensa già di fare in questa prima partita visto che ha avuto un pochissimo tempo per l'avvocato? Castellammare non si rifiuta, a meno che uno non abbia problemi legati alla distanza, diciamo problemi familiari. Non si rifiuta, credo che ci siano le condizioni tecniche e societarie per poter centrare l'obiettivo minimo che la società mi ha richiesto, quindi l'ho accettata subito con entusiasmo e siamo pronti a metterci al lavoro. Francesco Sabbatino, Metropolis. La mister è benvenuta, questa è la Maria innanzitutto, ha parlato di raggiungere l'obiettivo della società, l'idea di Chisto, in quel senso cosa era Chisto? La mister è un'ambiente, non si era ben capito, la mister è una salvezza importante, la società è un'ambiente, l'ho accettata, l'ho accettata, l'ho accettata, l'ho accettata, no, se con questo organico si chiede la salvezza, secondo me non siamo in linea con quelli che sono i valori della squadra, questa è una squadra che ha l'obiettivo di arrivare tra le prime dieci, questo è quello che mi ha chiesto la società, arrivare tra le prime dieci non vuol dire arrivare decimi, secondo me arrivare decimi credo che debba essere l'obiettivo minimo che deve avere questa squadra, questo gruppo, poi gli obiettivi ci si creano strada facendo, con la possibilità di migliorarli anche. Medano Donofrio il mattino. Qui se quando si subentra, cosa si dice alla squadra, qualche squadra ha trovato, l'hai già incontrata, rispetto anche alla situazione che dopo che si compite, non è mai facile, e se si subentra, eventualmente subentrata in una fase, bisogna tre gare, una settimana al centro della squadra, pochi giorni per lavorare, insomma le difficoltà che ci sono in questa squadra. La difficoltà maggiore è quella di aver avuto solo finora un allenamento, fra poche ore saranno stati due gli allenamenti per poterci conoscere meglio e poter aiutare la squadra arrendere per quelle che sono le loro possibilità. Questo è il problema più grande, perché comunque aver avuto almeno una settimana per andare a preparare una partita sarebbe stato sicuramente più agevole. È chiaro che in questo momento devono essere bravi i ragazzi a trovare un po' di orgoglio, una reazione, a voler dimostrare che possono far di più rispetto a quello che è stato fatto finora. Giuseppe Amato, il resto del calcio. Sì, salve mister, grazie. Grazie. Innanzitutto volevo chiedere, perché la società ha sempre parlato di un progetto a medio-lungo termine, quanto è la durata del suo contratto, se c'è una prospettiva di più medio-lungo termine con l'aiuto di Stabia per lei, magari anche legata a degli obiettivi. e poi volevo chiederle dall'esterno che sia una parte della situazione in Stabia. Allora, la proprietà, la società, perché poi il rapporto diretto nella trattativa, oltre che con il direttore sportivo, è stata con l'avvocato, quindi c'era anche la possibilità di parlare di un contratto pluriennale, sono stato io a non volerlo perché non mi sembrava ma questo è un pazzo, però non mi sembrava giusto, voi lo valuterete a fine anno se merito la possibilità di un rinnovo in una piazza così importante e poi dopo ci rimetteremo a sedere e se ne riparlerà. Detto questo... Quindi senza opzioni? No, c'è solo l'opzione scritta in caso di promozione, solo quella. Quindi il contratto è di durata fino al 30 di giugno. Per il resto che idea mi ero fatto? Mi ero fatto un'idea di un organico e una squadra che potesse essere competitiva per uno dei posti dei playoff. Questa era un po' l'idea che mi ero fatto vedendo l'organico. Poi è chiaro che c'è lo sviluppo dell'annata, che può essere condizionata da più fattori, da più situazioni. Purtroppo qualche ragazzo aveva preso il covid e questo condiziona. e magari se c'è stato un cambio tecnico probabilmente la società era convinta che la squadra potesse fare qualcosa di più. Davide Sorcavo sta piaciando. Salve mister, volevo dire lei. Nel progetto di questa società entra molto quello di puntare se il giovane. Una scelta molto condivisa anche dal suo predice del predicezione. È una scelta che adotterà anche lei? E caso lo contrario, mi chiedo se ci saranno dei cambiamenti da questo punto di vista. A me non è stato chiesto niente da questo punto di vista. I giovani quando giocheranno, giocheranno perché se lo merita. Perché in quel momento li ritengo più utili, che possano dare più garanzia per quella partita lì. E quindi verranno schierati solo ed esclusivamente per scelta tecnica. Non perché i giovani debbano giocare per portare un contributo economico alla società. Questo credo che debba essere chiarito. È un argomento che abbiamo affrontato con la società. Mi hanno dato totalmente carta bianca. Poi è ovvio, non ci prendiamo in giro, se la società alla fine della stagione si ritrova a 2, 3, 400 mila euro perché c'è stato il contributo dei giovani, ben venga. Non è che penso che li buttino via, anzi possono essere utilizzati per migliorare la parte organizzativa, strutturale, eccetera, eccetera. Ma non mi è stato posto nessun vincolo. Quindi quando i giovani giocheranno, giocheranno perché li riterrò più idoni e più adatti in quel momento lì per la gara. Domenico Offertato, Gansettino Vesuviano. Ciao, Benvenuto. Grazie. Dopo il primo allenamento che ha fatto, come ha trovato psicologicamente la squadra? Come inizia psicologica e dal punto di vista apprendito? Si ha trovato qualcosa? E poi che modulo o più o meno... Pensa di fare, vedendo i giovani da un'altra metodistica. Come l'ho trovata? È difficile parlare di come l'ho trovata perché arriviamo a fare la prima seduta di allenamento in una situazione anomala, con la squadra che comunque ha giocato l'ultima partita poco tempo fa, quindi ti ritrovi anche con una situazione non omogenea, ci sono quelli che non hanno giocato e che sicuramente sono più freschi e più brillanti, quelli che hanno giocato che possono avere un minutaggio maggiore, insomma monopoli e possono avere qualche difficoltà in più o hanno bisogno di recuperare in più. Quindi è un po' così, è una valutazione che deve essere un po' più capillare, un po' più centelinare. Dal punto di vista psicologico è chiaro che è una squadra che in questo momento è abbacchiata e consapevole che sta facendo meno di quello che sono nelle loro possibilità. Credo che questo sia anche un senso di… Mi hanno dimostrato di avere la percezione di questo, quindi di un senso di responsabilità comunque nei confronti della piazza, nei confronti della società, nella consapevolezza che c'è la necessità di cambiare marcia se vogliamo raggiungere se vogliamo raggiungere quell'obiettivo che secondo me è raggiungibile. Ultima e due. Ah scusa, ok, me l'ero dimenticato, io c'ho una mia idea ma non te la dico perché… La vedrete, non è? No, la vedrete, potrà variare, non sarà assoluta, ok? Non sono… No, 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 credo che in alcuni momenti della stagione ci debba essere anche un po' di elasticità da parte del tecnico in base anche ai giocatori che hai a disposizione, ma non te la dico perché se voglio avere anche un minimo vantaggio, minimo, piccolissimo, ora in questo momento devo cercare di sfruttare tutto per la gara di domenica, vorrei lasciare il mio collega un po' nel dubbio di quale sistema di gioco andremo a fare, ma tanto cambia poco, dopo 30 secondi lo vedranno e quindi… Tutti i due rapide ma ne volano vicino. Ecco, proprio guardando al prossimo incontro c'è un soffino capomano che è ex della rivestate, è uno che diciamo fa giocare male le squadre del Vestate perché ha adotto questo 5-3-2 un po' particolare, è una partita, non dico spare il gioco, è alta perché abbiamo già parlato che siamo parlati di un obiettivo più alto, la rivestate, però questa distanza di due punti tra la rivestate e il Vestate possono generare un po' di ansia anche da prestazione dei calciatori, anche in legge, e senza dire questa non la dobbiamo perdere assolutamente? No, l'ansia nel giocare a calcio non ci deve essere, poi è chiaro che il risultato è importante sempre, ma non deve essere questo tipo di ansia, noi dovremmo avere, in cominciare ad avere la mentalità, si gioca per cercare di vincere, le partite tutte, anche quando si presenterà qua il Bari, l'obiettivo è quello di fare tutto il possibile per provare a vincere la gara, quella volta che non giochiamo da soli, quella volta che non riusciremo a vincerla sarà perché saranno stati più bravi i nostri avversari, avremo trovato delle difficoltà, ma l'obiettivo è quello di allenarci durante la settimana per fare tutto il possibile la domenica per provare a vincere le gare. Il Messina è organizzato, sappiamo le capacità del mister, sappiamo che sarà complicato sviluppare una manovra offensiva importante perché hanno grande organizzazione e ti metteranno in difficoltà e noi dovremmo essere bravi e pazienti, cosa che magari probabilmente la gente, i nostri tifosi domani lo saranno meno, ma dovremmo essere bravi, pazienti e lucidi nel non farci prendere alla frenesia, nel voler per forza, è una partita che dura tanto, non durano 20 minuti, durerà fino a che l'arbitro non fischierà come diceva il buon Boscov e quindi consapevoli di questo dobbiamo anche essere certi che sarà una partita molto complicata. Ultima, vediamo da un'opera mattina. Già per la sua parola, portando una ventana di positività che nelle ultime settimane fosse, se è clave, si fosse che andasse un po' più così, potesse incontrare adesso i tifosi, ecco, in un momento dove siete sconfitte, cosa direbbe direttamente a loro e poi se secondo lei in questa via parte, in questo fine giornale, si è già più o meno delineato un po' quello che potrebbe essere l'andamento del campionato e le zone che contano bene. I tifosi, qui è una piazza particolare perché c'è grandissimo attaccamento, si vive di calcio e c'è sempre stato da parte degli avversari grandissimo rispetto quando si veniva a giocare, perché qualche volta non ci sono venuto solo da allenatore, ci sono venuto anche da calciatore, si veniva a giocare a Castellammare. Ecco, io credo che il più grosso regalo che possiamo fare, al di là dei risultati, al di là dei risultati, che poi dopo sono il sunto finale, però il più grosso regalo che secondo me questa squadra può fare ai nostri tifosi è quello di renderli orgogliosi della prestazione e questo è un aspetto che secondo me dobbiamo essere in grado di riuscire a portarci dalla nostra parte. La prestazione per me non passa dal colpo di tacco o dalla giocata sopraffina, per me passa da un atteggiamento collettivo che deve essere condiviso e trasmesso da tutti i componenti dello staff, del gruppo, del gruppo squadra. Quindi questo mi piacerebbe, mi piacerebbe che a fine stagione i nostri tifosi fossero orgogliosi di quello che questi ragazzi sono riusciti a mettere in campo e poi non dimentichiamoci, noi portiamo in giro il nome, ci chiamiamo Pinco Pallino, noi portiamo in giro il nome di una città e quindi dobbiamo esserne consci e consapevoli di questo. Grazie, grazie mister.